e magari di Peppino Di Capri Maestro, ben arrivato maestro ci diamo tanto ormai, siamo tutti, siamo vaccinati, tamponati ben arrivato maestro, il tuo pianoforte è a coda questo signore ha portato per esempio il Quiste in Italia nel 1962 che è il mio anno di nascita, quindi i miei genitori avevano tutti 45 giri l'hai portato tu il Twist, prima con Let's Twist Again e poi con Saint-Tropez in testa le classifiche, così come ha portato poi e l'ascolteremo più avanti una grande canzone, una grande melodia che è rimasta e fa parte della storia della musica che è Champagne, siamo già negli anni 70 nel 73 Ci vuoi regalare questi tre momenti Peppino? Sono venuto a posto E allora ad Arena Suzuki 60, 70, 80 il grande Peppino Di Capri Come on, let's twist again, like we did last summer Yeah, let's twist again, like we did last year Do you remember when things really hung? Yeah, let's twist again, but listen time is here Yeah, let's twist again, yeah Yeah, let's twist again, like we did last summer Yeah, let's twist again, but listen time is here Yeah, let's twist again, a melody Yeah, well never come Yeah, well never come Yeah, well never come Grazie a tutti 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 Grazie a tutti